Invece sei due e tre personaggi, l'evoluzione di uno e poi il doppio, come hai lavorato? Questo l'abbiamo più o meno spiegato prima, era importante non diventare delle macchiette soprattutto per rispettare l'innamoramento di un'eventuale Cecilia che doveva poi avere a che fare e degli altri personaggi che dovevano avere a che fare con un finto camal che doveva sembrare credibile perché non poteva trarre in inganno palesemente altre decine di persone adulte sembrando inverosimile quindi il lavoro fondamentale è stato quello, è stato di calibrare la realtà del personaggio Che aiutava anche me poi, perché comunque lei in qualche modo, la sua situazione la vive in maniera un po' drammatica però è sempre una commedia, quindi diventava assurdo e poco credibile che lei avesse questi momenti di isterismo di non controllo della situazione e poi con uno che era palesemente Se conosceste Violante non lo trovereste così verosimile, il suo isterismo